Sì, è tutto uguale, sicuro è bello. Ok, dai, ora, seriamente, seriamente, come, che si fa questo video di Natale? Non jingle bells. Beh no, certo che non jingle bells, no, 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 cioè, ci vuole una cosa un pochettino più minimale, però bella, potente, una cosa potente, ci vuole un'ambientazione, tipo bosco, si piace, bosco, bosco, sì, ci ho fatto anche il video, bravo, bravo, si va in Friuli, da Bosco, non parlo, Friuli e Natale è domani, guarda, anche se vai su un calvano va benissimo, quindi, bosco, ci siamo, una luce di tramonto, sai quella fredda? Bosco, bravo, luce fredda, ci piace così, vuole un po' bravo, eh, che rifaccia le riprese, perché, molto bravo, molto bravo. Ok, quindi, bosco, luce crepuscolare, fredda e... musica? Musica, musica... Aspetta, ce l'ho, l'hai presente quel pezzo, dunque, quel pezzo, ci vorrebbero anche dei bambini, dei bambini, te ce l'hai, dei bambini maschi? Aspetta, voglio dire... No, 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 dai, dei bambini che cantano di un coro, un coro di voci bianchi. Sì, si trova. Lei è presente quel pezzo, ehm, Bells, Carol, Carol, Bells, Carol of the Bells? Ho capito, ho capito. Cos'è sta? Bellissimo, allora immaginati, ci sono bosco, crepuscolo, bindi, che cantano... E questi di bianco? Assolutamente, sì, certo. Tu che entri col suono... No, io non suono. Come è il suono? No, non suono, io dirigo il coro dei bambini. Ah, ma canti? Sì, certo, mentre dirigo, tipo... Sì, ci siamo. Io sono in un angolo dietro, tipo un albero, così. Un vestito di bianco. Certo, vestito di bianco. Così, non mi muovo tanto, già c'è bambino. Eh, certo. Sto così ferma. Strasci con lo lungo. Lungo. Lucine sullo strascio. Sì, perché anche puscolo, se avessi dei punti luce non sarebbe mai. Ok, ci siamo, ci siamo. Bello, bello, bello. Di male. Sì. Sì. E poi per attalizio quello lì. E poi ci vorrebbe un cambio scena, un cambio d'ambientazione. E dove si fa? Però si fa nulla. Ecco. Bianco, è bianco anche quello. Dalla calvana alla luce. Sì, 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 sì. E anche lì, guarda, fumo, un taglio di luce, taglio dall'alto, un altro taglio dal basso, due diagonali, fumo, e noi dietro, ieratiche, gianche, così, luce, fumo, taglio, sì. Sì. L'arena? L'arena? L'arena nell'angolo, il denunferma, zitta, buona, lì nell'angolo. Beh, non è salvo, ma un'ombra. 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 Un'ombra che richiama il bosto. L'ombra. E poi dai calone all'arena. È tutto esatto. Sì, si può fare. Ma quale cosa ti so, scusa, ma quali azioni sul tema non è? Eh, la replica, il 17 febbraio. Il 17 febbraio? Sì, sì. E quindi, ok, fumo, taglio, taglio l'arena, e se cadessero tipo glitter, anche brillantini, sì, che richiamano le lucine dello stascio, quindi un po' bianco e oro, bianco e oro, bello. Così, proprio noi gli erasi, eh? Fumo, e cadono. Sì, sì, intanto quello che lo fai in mezz'ora. Sì, 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 sì. Ora, non so i brillantini. Se devono anche adesso i brillantini, forse... Forse fa un po'... La neve! Si apre lo germano e nevita dentro al Verum. E poi lo devo pulire. Vabbè, nel senso, lì risormenta al bana, ma la neve, tanto ne vieteranno, no? Sì. Ora di solito nevita. Di solito a marzo. Allora, l'idea c'è, lo teniamo così, si fa, in marzo ce l'abbiamo pronto per il prossimo anno. Per il post. Per il post. Ora sempre si scrive le cose su Facebook e tanti auguri. È bello fatto. Perfetto. Minimale, messi in senso. Con le palle, no? No. Caschi subito. Diciamo.